Ed è un riconoscimento che ci fa particolarmente piacere come scuola e come territorio perché giunge a coronamento dell'anno dello sport proclamato dal Comune di Cavriglia che c'è stato di indirizzo per tutte queste attività che abbiamo praticato. L'Istituto Cavrigliese Dante Alighieri è stato eletto scuola dell'anno per lo sport. Il riconoscimento sarà consegnato venerdì 15 dicembre nella Sala dei Grandi di Arezzo nell'ambito della giornata olimpica promossa dalla sezione retina del CONI per gli straordinari risultati ottenuti dai ragazzi nelle varie discipline sportive. I ragazzi partecipando alle varie attività sportive che offre la scuola hanno raggiunto degli obiettivi prestigiosi. Loro hanno partecipato a un campionato regionale di corsa campestre, hanno sfiorato la nazionale perché sono arrivati secondi nella regione, poi sono campioni provinciali di palla a mano, sono campioni provinciali di scio alpino, finalisti nel calcio a cinque e in più l'Istituto ha partecipato praticamente a un concorso indetto dall'Ufficio di Educazione Fisica che è quello del Fair Play che aveva come tema il bullismo e che è stato curato dai docenti di lettere dell'Istituto e abbiamo vinto anche quello. Alla base di questo traguardo l'impegno e la serietà che i ragazzi hanno profuso negli allenamenti. I risultati sono stati dei bei risultati che dopo il gran lavoro che abbiamo fatto durante l'anno e anche grazie alla professoressa siamo riusciti a raggiungere questi grandi e importanti obiettivi. Il momento è stato più divertente quando a palla a mano siamo riusciti a conquistare la vittoria e tutti abbiamo risultato tutti insieme come una squadra unita. Ho fatto il calcio a cinque e palla a mano dove abbiamo vinto il primo premio, cioè siamo campioni provinciali. Il mio sport preferito è calcio come diciamo tutti e io spero da grande di diventare un calciatore e questo sport a me mi è sempre appassionato fin da un bambino e io ho sempre dato il massimo.